Fondi per la cultura. Il sindaco di Teramo scrive al premier Renzi, adesso non dimentichi il teatro romano. Lavori pubblici, il vecchio magazzino delle merci rischia di bloccare l'arretramento della stazione. Martinsicuro, tosse e malesseri per esalazioni misteriose, le famiglie tornano a casa, forse erano solventi. Teoria gender, le prof del consiglio, non offendete la scuola che ogni giorno si occupa di tolleranza. Sport Teramo a Vincenzo Vivarini, la panchina d'oro di Lega Pro per il campionato vinto sul campo. Sport calcio, processo di irtisoccher, i giudici d'appello restituiscono sette punti in classifica all'Aquila. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. All'indomani dell'annuncio del premier di investimenti per un miliardo di euro sui siti culturali e archeologici italiani, il sindaco di Teramo scrive a Renzi. Il progetto del teatro romano rientra a pieno titolo tra i beneficiari di questi finanziamenti. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi scriverà al premier Renzi per chiedere ancora una volta il milione e mezzo di euro necessario per il completamento del recupero funzionale del teatro romano. Proprio ieri Renzi ha annunciato lo stanziamento di un miliardo di euro per i beni culturali e archeologici. Sì, è di ieri la notizia che il governo ha stanziato un miliardo di euro per la cultura e per i beni archeologici. Tra l'altro specificando che questi soldi devono andare soprattutto a quelle emergenze come il teatro romano che hanno un progetto già in essere e che però si trovano in mezzo al guado. Cioè hanno iniziato questa attività ma non l'hanno completata. Allora credo che il teatro romano sia proprio il caso specifico anche per quelle che sono le dichiarazioni del nostro premier. Tra l'altro lei ha scritto qualche giorno fa la quarta lettera al ministro Franceschini e non ha avuto ancora risposta. Sì, non abbiamo avuto risposta. Insomma noi con il ministro Franceschini abbiamo avuto un'interlocuzione grazie all'aiuto degli amici radicali. All'incontro partecipò anche Manola Di Pasquale. Il ministro aveva promesso che a settembre sarebbe venuto a terra ma trovarci a vedere il nostro teatro romano. Noi abbiamo sollecitato la sua visita in più occasioni, ho scritto anche altre lettere per comunque avere una risposta. Io spero positiva ma comunque una risposta però non è arrivata nessuna novità. Con questi soldi annunciati da Renzi qualche possibilità in più c'è? Sì, non abbiamo avuto nessuna risposta, ho scritto la quarta lettera, nei prossimi giorni scriverò a Renzi dove metterò in evidenza questo progetto che tra l'altro è un progetto che vede come attori il comune, la provincia, la regione, il governo con un atto firmato dall'allora ministro Ornaghi, la fondazione Tercas che metterebbe a disposizione delle risorse. Quindi insomma ecco una risposta ci deve essere data. C'è questa grande opportunità del governo, io credo che Teramo e il teatro romano è davvero l'intervento da finanziare. Tra l'altro non è che le cifre un milione e mezzo di euro a cui poi si aggiungerebbe il milione e mezzo di euro della regione e il milione e mezzo della fondazione e ci permetterebbe dopo il castello della Monica di completare quel percorso urbanistico, culturale che stiamo portando avanti oramai da tanti anni. Quindi insomma chiederemo aiuti a Renzi per risolvere questo problema. Il vecchio magazzino dell'area di risulta delle ferrovie non può essere abbattuto perché vincolato il progetto dell'arretramento della stazione ferroviaria di Teramo adesso rischia di non vedere più la luce. L'ultima speranza dal parere della sovrintendenza e il servizio. Perché il progetto di arretramento della stazione ferroviaria di Teramo rischia di saltare? Sì ci stiamo muovendo, noi a novembre dell'anno scorso siamo attivati tramite le ferrovie per poter un attimino spingere affinché questo progetto andasse avanti. Lì c'è quel vingolo di culturalità che le ferrovie poi hanno chiesto alla sovrintendenza perché diciamo fra virgolette l'abbattimento, lo spostamento oppure la rimodulazione dell'ex magazzino merci implica l'intervento. Se non si abbatte purtroppo quella struttura non si può arretrare la stazione perché la fermata ha bisogno di 200 metri in piano, bisogna per forza di cose un attimino rivedere quella situazione. Non ci sono ulteriori spazi di modifico, di variante che possano permettere l'arretramento della stazione. Anche perché così com'è la fermata sarebbe leggermente in salita e le ferrovie dello Stato non lo possono permettere perché le fermate non possono essere in salita. Le fermate non possono essere in salita, l'arretramento con il marciapiede per gli utenti che devono salire sul treno devono avere uno spazio proprio. Attualmente basti pensare che il binario del treno passa un metro e mezzo dall'ex magazzino merci. Dunque è ovvio che l'arretramento che comporta la realizzazione di 200 metri di marciapiede su tutto il fronte della fermata implica la modifica di quella struttura. Dunque le ferrovie come giusto che sia in qualità di proprietari hanno chiesto alla sovrintendenza un parere sulla culturalità dello stabile. Vedremo un attimino i prossimi giorni, anche il sindaco l'altro giorno è stato per quanto riguarda il corso, ci sono state dell'apertura da parte della sovrintendenza. Vediamo un attimino la prossima settimana di sentirci un'altra volta con la dottoressa per vedere un attimino l'evolversi della situazione. Però diciamo che questo potrebbe compromettere in maniera definitiva se non abbiamo questo vincolo tolto, l'arretramento della stazione che per noi è un progetto strategico. Una donna di 39 anni è morta nelle prime ore di questa mattina lanciandosi da un cavalcavia di Marina di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e finendo sulla sottostante carreggiata dell'A14 dove è stata travolta da un'auto di passaggio. E' stato l'automobilista subito dopo a segnalare alla polizia autostradale di Pescara Nord la presenza di qualcosa sulla carreggiata. Una pattuglia in zona ha subito raggiunto il luogo ma per la donna non c'era più nulla da fare. Ha lasciato un biglietto che per la polizia autostradale conferma il suicidio. Resta in carcere Rosildo Ferri, l'ascolano di 36 anni, arrestato lo scorso 3 marzo per i reati di sequestro di persona, violenza privata, estorsione, tentata estorsione, minacce e lesioni personali ai danni di un ragazzo. La vittima, residente a Valle Castellana, lo aveva denunciato per un'aggressione subita a Valle Castellana, territorio che ricade sotto la giurisdizione del Tribunale di Ascoli Piceno. Il giovane sarebbe stato picchiato prima in strada e poi anche nell'abitazione dell'indagato che gli aveva impedito di allontanarsi. Ferri avrebbe indotto i datori di lavoro del ragazzo a licenziarlo attraverso reiterate minacce rivolte anche al medico curante della vittima perché non rilasciasse un certificato medico sulle lesioni. Oggi Ferri è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Al giudice Filippello ha detto di aver picchiato il denunciante perché poco prima stava per investire sua figlia con l'auto guidando a tutta velocità. Ha cercato di nascondersi nel bagno del locale ma non ha avuto scampo ed è stato arrestato. Sali Max Bedin, macedone di 24 anni che vive a Teramo, è stato bloccato all'interno di una sala scommessa di Alba Adriatica dove si era introdotta assieme ad altri complici forzando la sala cinesca dell'ingresso. La serranda alzata a metà ha però insospettito un vigilantes di passaggio che ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, ispezionando i locali della sala giochi, hanno notato nel bagno nascosto sotto al lavandino lo straniero. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati anche gli attrezzi utilizzati dai malviventi per scardinare la sala cinesca. Il giovane extracomunitario è stato arrestato. Un odore a cretosse e pruriti. A Martinsicuro, in una palazzina abitata da otto persone, intervengono le squadre specializzate dei pompieri. Verosimilmente si tratterebbe dello sversamento di solventi, come ci spiega il sindaco di Martinsicuro. La situazione è comunque tornata alla normalità. Gente che tossisce, altri che accusano pruriti. Ieri pomeriggio, a Martinsicuro, in via Battisti, intervengono i vigili del fuoco e con essi la squadra specializzata cosiddetta NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, per capire cosa stia accadendo. L'odore è forte di una sostanza non identificata, di cui non si conosce nemmeno la provenienza, e il collegamento con gli effetti fisici è evidente, anche se non confermato ufficialmente attraverso i rilevi ambientali. Dopo un breve periodo di osservazione e valutazione, fatta anche con l'intervento dei carabinieri, della compagnia di Albadriatica e della stazione di Martinsicuro, è stato consigliato ai residenti di dormire fuori casa. Quattro famiglie, per un totale di otto persone, sono state sistemate presso familiari e hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. La situazione oggi, comunque, è tornata alla normalità, come ci spiega il sindaco di Martinsicuro, Paolo Camaioni. Sì, certamente, c'è stata una chiamata ai vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, perché alcune persone accusavano un odore acre che dava fastidio alle vie respiratorie. Sono arrivati i vigili del fuoco, sono stato sentito intorno alle 15, mi sono recato sul posto e tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi abbiamo accertato che probabilmente non c'è in ballo nessuna fuga di gas o situazioni che potrebbero dare adito a particolari allarmi. Nello specifico, ieri i vigili del fuoco, dopo la visita anche della unità chimica e batteriologica, hanno rimesso una nota generica in cui raccomandavano alle famiglie di non rientrare, quindi non ho emesso una vera e propria ordinanza di sgombero della palazzina. C'è stata una raccomandazione più che altro e questa mattina dopo la visita degli operatori dell'Asile di Teramo, che a breve mi rimetteranno una relazione, è stata accertata che non ricorrono condizioni di eccessivo pericolo, verosimilmente potrebbe trattarsi di una eccessiva concentrazione di un prodotto per la sanificazione ambientale. Tutto qua, io altro per il momento non ho da aggiungere se non il fatto di attendere questa relazione peritale dell'Asile di Teramo, che dovrebbe tranquillizzare tutti e quindi nell'attesa che lo facciano loro, lo faccio io, non sussistono problemi. Questa mattina la palazzina è tornata pienamente agibile, per cui tutti i condomini sono rientrati regolarmente in loro abitazioni. D'Alfonso si faccia parte attiva per un accordo. L'Abruzzo non può attendere ancora la figura del garante e dei detenuti. Così il sottosegretario Federica Chiavaroli oggi è a margine dell'incontro con i detenuti del carcere di Chieti. La Chiavaroli è ancora in attesa delle deleghe. Secondo quanto si apprende da Roma, oltre alla Polizia Penitenziaria e alla formazione, dovrebbe assumere anche i carceri minorili e la giustizia civile. Dunque oggi ha parlato a ragion veduta, rilanciando la querelle della nomina della Bernardini, che non decolla da mesi. Non ha fatto cadere nel vuoto l'appello la giunta regionale alla Chiavaroli, ha risposto Camillo D'Alessandro, coordinatore della maggioranza in regione. Ciò che ci ha guidato nell'individuazione del profilo del garante e dei detenuti non è stata né l'amicalità né tanto più la partigianeria. Non abbiamo indicato un amico, non un esponente di partito né qualcuno a cui dare uno stipendio, ma chi in Italia è riconosciuta come indiscutibile punto di riferimento per i detenuti, ovvero Rita Bernardini. Ritenevamo che la scelta di un curriculum oggettivo potesse superare i veti sul metodo apparso alle opposizioni come non rispettoso delle proprie prerogative. Tuttavia, nei prossimi giorni il presidente D'Alfonso lavorerà per cercare le condizioni di un'intesa quanto mai opportuna e necessaria. Insomma, tutti d'accordo, ma l'Abruzzo non ha ancora il suo garante dei detenuti. A scuola i docenti affrontano costantemente i temi della tolleranza e del rispetto reciproco. Per questo ho trovato superfluo portare in Consiglio Comunale la teoria gender e quanto sostiene il Consigliere Comunale e anche insegnante Maria Cristina Marroni. Il servizio. Non si spegne l'eco delle polemiche dopo la presentazione in Consiglio Comunale a Teramo da parte del Consigliere Pomante dell'Ordine del Giorno sulla teoria gender. La consigliera Maria Cristina Marroni si dice dispiaciuta di un aspetto di quello che è successo all'interno del Consiglio Comunale la scorsa settimana. Quale? Il fatto che si volesse far passare in Consiglio Comunale un aspetto sconcertante che a scuola, come se a scuola non si insegnasse già adesso l'integrazione e il rispetto della persona e la tolleranza. Io e la consigliera Maria Rita Santone siamo rimaste interdette e io sono intervenuta a difesa dei tanti colleghi che ogni giorno operano in tutti gli ordini di scuola per difendere proprio la persona, il bambino, il ragazzo, l'adolescente e quindi non può passare, è disdicevole che passi in Consiglio Comunale, che a scuola tutto questo non venga già fatto. Io lavoro da 15 anni ormai nell'istituzione scolastica di secondo grado e devo dire che c'è già l'impegno di tutti i colleghi giornalmente, appunto quotidianamente per difendere e promuovere l'integrazione e la tolleranza. Secondo lei quest'Ordine del Giorno non doveva proprio arrivare in Consiglio? Assolutamente no. Quest'Ordine del Giorno poteva essere discusso come approfondimento personale, ma io l'ho detto anche in Consiglio, la materia scolastica, cioè la scuola, è una materia parlamentare. Quindi mi sono permessa di dire che l'altro giorno forse qualche consigliere comunale immaginava di essere deputato e senatore e di presentare un Ordine del Giorno al Ministro Giannini. Quindi purtroppo non è materia, non è competenza di un Consiglio comunale e con tutti i problemi che abbiamo a Teramo questa sarebbe stata l'ultima cosa da discutere. Abbiamo impegnato più di due ore di quel Consiglio comunale per parlare di qualcosa che già avviene giornalmente nelle scuole. Ripeto, i colleghi ogni giorno sono impegnati affinché l'integrazione e la tolleranza passino e siano promosse. Nasce a Teramo il welfare studentesco. A portare avanti l'innovativo progetto, l'Università di Teramo, tra le prime a distituire un'apposita delega affidata dal rettore al professor Cristian Corsi, docente di comunicazione d'impresa. Corsi, che aveva già la delega all'orientamento, si occuperà dunque non solo di quelle attività volte a potenziare l'attività d'orientamento nelle scuole superiori per il collegamento con il mondo del lavoro, ma di tutte quelle iniziative volte a costruire le condizioni per favorire un clima ancora più proficuo di dialogo e collaborazione tra Teneo e studenti. La nuova delega, infatti, spiega l'Università in una nota, include attività e progetti per il benessere studentesco, il coordinamento con le associazioni studentesche per progette e iniziative, il coordinamento delle attività di segreteria studenti, il coordinamento del patto con lo studente e del gruppo di lavoro per potenziare la piattaforma e-learning. Dati da record, quelli diffusi da Trenitalia, riguardo la puntualità dei treni sul territorio abruzzese. Basti pensare che il risultato puntuale è il 93,8% dei convogli ferroviari, meglio di Francia, Baviera, e in linea con il Regno Unito. Il servizio. Puntualità reale per il 93,8% dei treni, cancellazioni ridotte allo 0,2%, circa 7.435 corse effettuate per 781.000 chilometri percorsi. Sono i numeri per l'Abruzzo, nei primi due mesi dell'anno, di Trenitalia, che nel diffonderli parla di dati da record, tra i migliori a livello europeo. Si tratta, infatti, secondo la società, di performance di eccellenza in ambito europeo, con indici di puntualità superiori a Francia, Baviera, e in linea con le migliori prestazioni di alcune compagnie regionali del Regno Unito. Gli indici di gradimento, inoltre, sono in crescita. Il 91,8% degli intervistati valuta positivamente il viaggio nel suo complesso, più 8,7% sul 2015 e più 13,1% sul 2014. Sul 7.435 treni sono state registrate in tutto 15 cancellazioni, di cui solo 5 imputabili alla società di trasporto, a fronte di 147 corsi giornaliere medie. Ma è sul versante della puntualità che giungono notizie ancora migliori. Se la media generale dei treni arrivati entro i 5 minuti raggiunge il 93,8%, migliorando di 6-7 punti percentuali il risultato del primo bimestre 2015, sono soprattutto le fasce più frequentate dai pendolari a segnalare gli incrementi più significativi. Nella fascia che va dalle 6 alle 10, infatti, il 97,2% dei treni è arrivato a destinazione entro i 5 minuti dall'orario previsto, contro il 92,6% del 2015 e l'89,9% del 2014. Nella fascia pomeridiana, 16-20, la puntualità è stata del 90,6%. Si tratta di puntualità reale, senza quindi escludere dalla statistica alcun ritardo. In sostanza, sottolinea Trelitalia, quella effettivamente vissuta dai viaggiatori. Sono stati annullati in autotutela dall'Agenzia delle Entrate di Teramo gli avvisi di accertamento per il mancato versamento di RSIRAP della farmacia comunale di Santomero relativi alle annualità dal 2009 al 2013 per un importo complessivo di oltre 335 mila euro. Una vicenda che nasceva dalla denuncia presentata alla Procura da uno dei revisori dei conti di allora, Ezio Longhi, in cui il Comune aveva bollato come vasore fiscale. Ma sia il GIP del Tribunale di Teramo con un decreto di archiviazione e poi l'amministrazione fiscale con l'annullamento degli accertamenti hanno dato ragione all'ente. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Santomero, Andrea Luzzi. L'attenzione del Comune di Penna Sant'Andrea è focalizzata in questo momento sulla riqualificazione di scuole e impianti sportivi. Appena Sant'Andrea ci sarà una sorta di riqualificazione per quanto riguarda impianti sportivi e non solo? Sì, diciamo che ultimamente siamo stati, così si può dire, fortunati perché siamo riusciti ad aggiudicarci tre bandi. O meglio, uno viene direttamente dalla presenza del Consiglio dei Ministri, uno lo sblocca Italia, è stato inserito il nostro progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo più importante, quello di Valvomano. Finalmente abbiamo già fatto la gara di appalto, credo che a breve riusciremo a partire dai lavori per ridare alla nostra comunità un impianto sportivo che è fondamentale e importante. E in più siamo riusciti ad aggiudicarci altri due piccoli bandi, una per la sistemazione della palestra, i lavori sono già in itineri, che stanno per essere completati, dove riqualificheremo la palestra comunale e in più il campo sportivo di Penna Sant'Andrea che presto con il credito sportivo, il credito sportivo siamo riusciti ad avere un finanziamento che ci permetterà di riqualificare anche questi due impianti. Da segnalare anche importanti interventi nelle scuole. Sì, siamo riusciti poco tempo fa a completare l'intervento della scuola dell'infanzia di Valvomano, sia al Nido che alla scuola dell'infanzia, un intervento di riqualificazione. A breve, credo proprio in coincidenza con la chiusura delle scuole, così per non creare disagio alle famiglie, riusciremo a fare i lavori anche alla scuola primaria di Valvomano che grazie a un finanziamento regionale di 145 mila euro. Domani, martedì 8 marzo alle 19, nella chiesa San Giovanni XXIII a Scerne di Pineto, ci sarà la cerimonia di gratitudine al Signore per la vita e l'opera di Don Silvio De Annuntis. Grazie per essere stato il nostro papà. Questo è il tema scelto da Suor Cecilia, Suor Caterina e Suor Pina che portano avanti l'opera avviata da Don Silvio. Le tre suore in una nota scrivono Vi invitiamo a ringraziare con noi il Signore per la vita e le opere che Don Silvio ha donato alla nostra comunità nel settimo anniversario della sua salita al cielo. Lo ricorderemo anche attraverso le parole di coloro che lo hanno raggiunto lassù e di chi oggi testimonia ancora l'irripetibile incontro con lui. La signora Italia Palucci Pace ha festeggiato sabato cento anni di vita. Circondata da familiari e amici, la centenaria, molto conosciuta in città, ha festeggiato nelle sale del ricreatorio Gemma Marconi in Piazza Verdi dando così un ulteriore significato all'evento. Sentiamo. Italia Palucci compie cento anni. Intanto auguri. Tanta gente è venuta a festeggiarla. Tanta gente. Io non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. E mi sembra di non essere io presente. Sono un'altra. Ma le si aspettava di arrivare a cent'anni? No, no. Più i giorni passavano, più dicevo, ma io compio cent'anni. Boh. Sarà? Non li sento. E infatti se li porta veramente bene. Allora, tutti vogliono sapere, quando una persona arriva a cento anni, cosa ha fatto per arrivare così bene in salute? Niente. Niente di speciale. Mangio di tutto. Peperano i fritti. E poi? E poi non bevo alcol, né vino, né niente. Mangio poco, buono. Poco e molto sano. E molto sano, sì. Ma quanti figli, quanti nipoti ha? So che ne ha tanti. C'ho nove nipoti e sei pronipoti. Sono sei volte binnonna. Insomma, tante gioie e poi con quattro figli. Eh, gioi e dolori. Anche quelli fanno parte purtroppo della vita. Fanno parte della vita, fanno parte. E' contenta della sua vita, cento anni. Cosa ricorda in particolare di tutta la sua vita con tanto amore? Prima di tutto sono cresciuta in un istituto. Molto bello. Ci volevamo bene tra di noi come sorelle. Non eravamo compagni, eravamo sorelle. Piangeva uno, piangevamo tutti. I fidanzati, tutte le scappatelle. E poi ricordo il matrimonio. Povero, ma felice. E lei va a messa anche tutti i giorni, vero? Tutti i giorni, tutti i giorni. Senza la messa la mia giornata non è buona. Con la messa, io perciò vivo. Perché sono con Gesù. Sono in pace con tutti. Non ho nemici. Se qualcuno è stontipatico non lo so. Tanti auguri anche da parte nostra alla signora Italia, ma soprattutto tanti complimenti perché davvero tutto sembra, tranne che una centenaria. Resterà aperta al pubblico fino al 20 marzo nella sede di Kairos a Teramo la mostra di pittura dell'artista teramana Elisa Scucci Marra. La personale è stata inaugurata sabato scorso. E' stata inaugurata sabato 5 marzo la personale dell'artista Elisa Scucci Marra. La mostra che la Kairos ha voluto organizzare nella sua sede a Teramo dovrebbe avere il carattere di un esordio artistico. Ma non è così. L'impronta umile, ma non ingenua, del dato linguistico di Elisa mostra subito uno spessore che non è da primo inizio di attività e che ha riferimenti interessanti da individuare per comprendere la qualità di un'operazione non priva di valore e di collegamenti con la vita artistica nazionale del nostro tempo. 40 anni comunque di lavoro indefesso, quasi spiorando la perfezione del comportamento di vita e nello stesso tempo lavorando con una grande umiltà. Questa umiltà che ha contrassegnato tutto il lavoro svolto che è un prova di qualità. Io sono convinto che non esiste altro metodo per capire i valori se non guardare l'umiltà. L'individuo umile è la persona che sa riflettere sulle cose, mentre il presuntuoso che si autoproclama artista, secondo me, non va lontano. Tanti anni di lavoro, tanti anni di passione per l'arte e per la pittura. Questa è la prima personale che Elisa Scucci Marra mette in mostra. Una persona molto schiva, una persona che ama lavorare in silenzio. Però il professore Nerio Rosa ha voluto che queste fantastiche opere, veramente belle, potessero essere ammirate da tutta la città di Teramo e non solo. Grazie, grazie tante. Ringrazio Nerio Rosa, il critico d'arte, che è stato bravissimo così a farmi presentare queste opere. Altrimenti io non le avrei fatte. Queste opere sono ricche di colore, ricche di energia. Come vengono ispirate? Secondo il mio stato d'animo. Cerco di esprimere i miei sentimenti attraverso questa pittura, ciò che sento al momento. E mi ispiro alle cose del mondo, cioè agli eventi del mondo, alla natura e anche alla gente, a tutto ciò che mi circonda. Domani, 8 marzo, nei locali Arca Laboratorio per le arti contemporanee, si terrà l'inaugurazione della mostra Microcosmi di un caos ordinante dell'artista rosetana Loriana Valentini. Il servizio. Verrà inaugurata domani alle 18 nel laboratorio Arca di Teramo la mostra dal titolo Microcosmi di un caos ordinante di Loriana Valentini. Una ventina di anni fa, frequentando un corso da un maestro di Silvi, Gianni Massacesi, però la passione c'era da sempre. Quindi però per approfondire questo lavoro ho frequentato questa scuola. Dopo vent'anni di lavoro io facevo una pittura più classica, quindi lui insegnava il classico. E dopo vent'anni ho sentito il bisogno di isolarmi un po', perché quella pittura non mi trasmetteva più emozioni. E allora sentivo, con grande sofferenza poi mi sono un po' allontanata da questa scuola, perché si era formata come una famiglia, mi sono un po' isolata e ho riflettuto e ho iniziato a fare questa pittura più libera. Le opere dell'artista esprimono un forte desiderio femminile di riscatto, da qui la scelta dell'Assessorata alla Cultura del Comune di Teramo di voler inaugurare la mostra proprio l'8 marzo, giorno della festa della donna. La mostra vuole essere un omaggio alla festa della donna, per questo l'abbiamo inaugurata l'8 marzo. Questo perché ritengo che alcune battaglie delle donne debbano essere sostenute non soltanto da un punto di vista sociale e ideologico, ma anche da un punto di vista culturale. Quindi l'artista in questo caso esprime dei sentimenti particolari con queste opere, c'è una storia dietro e quindi ho ritenuto che fosse importante dare a lei ma dare anche a noi questa possibilità all'interno di questo spazio espositivo che, come già stato in passato, continua ad essere aperto al pubblico. Ci sono diverse mostre già in programmazione per i prossimi mesi e volevo ringraziare il professor Nero Rosa perché ci ha dato la possibilità di intercettare Loreana Valentini, che è un'artista del territorio e anche per questo crediamo che sia giusto che debba essere valorizzata. La mostra sarà visitabile dall'8 al 26 marzo, mattina e pomeriggio, dal martedì al sabato. Sarà il professore terramano dell'Università d'Annunzio di Chieti, Gianmarco Cifaldi, ad introdurre la relazione della professoressa dell'Università di Mosca, Tatiana Yugai, sulla percezione sociale della violenza sulle donne all'interno di una società multiculturale nel seminario che si terrà domani pomeriggio nel campus di Via Vestini a Chieti organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Ateneo Chietino. E adesso andiamo a vedere insieme che il tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo Al mattino variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree colinarie e montane, parzialmente nuvoloso sulle aree litorane, neve oltre 900 metri. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori appeninici, poco nuvoloso sui settori costieri, nevicati al di sopra dei 900 metri. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori interni e sui rilievi, moderatamente nuvoloso sui settori marittimi, quota neve sui 900 metri, temperature stazionarie, massime comprese tra 7 e 10 gradi nelle cocchie a cui l'anemanzicane, tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati a regime di brezza, mari calmi o quasi calmi. In provincia di Teramo al mattino variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori colinari e montani, variabile sui settori litoranei, neve oltre 900 metri, nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone appeniniche, moderatamente nuvoloso sulle zone costiere, nevicate al di sopra dei 900 metri, tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree interni e sui rilievi, moderatamente nuvoloso sulle aree marittime, quota neve sui 900 metri, temperature stazionarie, massime comprese tra 11 e 14 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 13 e 16 gradi sulle coste, venti deboli orientali, mari quasi calmi. Siamo allo sport, iniziamo con il calcio. Vincenzo Vivarini, allenatore del Teramo, è stato nominato miglior allenatore della Lega Pro per la stagione 2014-2015, quella della vittoria del campionato. Ad eleggerlo il migliore tra i tecnici della Lega Pro sono stati i colleghi allenatori che in 18 gli hanno attribuito la scelta assegnandogli la panchina d'oro di Lega Pro. Al secondo posto è finito il tecnico del Novara, Domenico Toscano, con 12 voti. Al terzo quello della Salernitana, Leonardo Menichini, con 9 voti. E adesso il calcio giocato. In Lega Pro si è giocata la venticinquesima giornata. Vediamo tutti i risultati e la classifica. Carrarese, L'Aquila, 2-1, Maceratese, Siena, 4-1, Rimini, Pisa, 1-1, Lupa, Roma, Spallo, 1-5, Prato, Teramo, 0-0, Tutto Cuoio, Pistoiese, 0-0, Savona, Ancona, 1-2, Arezzo, Pontedera, 0-1, Lucchese, Sant'Arcangelo, 1-1. Questa è la classifica. Spallo, 55, Pisa, 48, Maceratese, 45, Ancona, 42, Carrarese, 38, Arezzo e Siena, 34, Pontedera, 33, Teramo, 32, Lucchese, Pistoiese, L'Aquila, 27, Tutto Cuoio, 26, Sant'Arcangelo e Prato, 25, insieme a Rimini, con 16 punti, Lupa, Roma, Savona chiude con 12 punti. La gara di Prato ha riservato al Teramo due buone notizie. Lo 0-0 del lungo Bisenzio ha permesso ai biancorossi di mantenere sette punti di vantaggio sulla zona play-out. A nove turni dalla fine del campionato, l'obiettivo della salvezza matematica si avvicina lentamente. Vivarini, inoltre, può sorridere perché in Toscana è tornato a disposizione Mirko Petrella, che nei 15 minuti in cui è stato utilizzato si è subito reso pericoloso sfiorando il gol vittoria. Nel frattempo, oggi, la squadra è tornata ad allenarsi per preparare il prossimo turno casalingo contro la Carrarese. Noi abbiamo intervistato l'Enoci. Penso che l'obiettivo sia sempre dare il massimo. Noi adesso dobbiamo pensare a una parità alla volta. Dobbiamo pensare alla parità di quella Carrarese, che è importantissima. Andiamo a cercare di fare punti, sia per la classifica in basso sia per la classifica in alto. L'obiettivo nostro è giocare tutte le partite alla morte, una parità alla volta, e poi fare i conti a fine campionato. Sicuramente andiamo a fare più punti possibili per tirarci fuori definitivamente dalla zona sotto la classifica. E poi dopo vediamo se siamo stati bravi a mettere un po' di risultati consecutivi. Sì, sì, esatto. Bisogna riuscire a dare continuità sulle vittorie, che è quello che fino ad adesso ci è mancato. Soprattutto fuori casa abbiamo fatto pochissimi punti. In casa abbiamo fatto di più, però magari potrebbe esserci qualche vittoria in più, visto anche le prestazioni che abbiamo fornito. Il gol manca, perché comunque per un attaccante il gol vuol dire tanto. Quindi sicuramente manca. Però penso che poi la cosa fondamentale sia che la squadra vinca. Quindi quello che conta la prossima partita sono i tre punti, indipendentemente da chi scende in campo e da chi deve essere segnato. Diciamo che siamo una squadra che per caratteristiche sa giocare a calcio, quindi magari in casa sul nostro campo usciamo invece meglio, visto che comunque è un campo sintetico. A Prato c'era un campo veramente difficile da giocare. Al primo tempo quasi impraticabile, non si riusciva neanche a calciare la palla. Spesso la palla si fermava, era difficile calcolare l'imbalzo, calcolare se la palla schizzava. Quindi sicuramente è stata una partita che non si adattava molto alle nostre caratteristiche. Dobbiamo magari tutti noi metterci qualcosa in più per riuscire a evitare che succeda questo. Quindi a riuscire a creare, a crederci un po' di più tutti, non so che attaccanti, ma tutta la squadra che anche quando magari si trovano situazioni complicate di campo, così si può comunque riuscire a creare qualcosa in più. Se uno ci crede, dà veramente tutto, tutti i giorni, prima o poi la ruota gira, quindi si tornerà, spero, prima possibile tutti a toglierci delle soddisfazioni, anche personali. E con il prossimo servizio andiamo a vedere tutti i gol realizzati nell'ultimo turno del Girone B di Lega Pro. Nella venticinquesima giornata del campionato di Lega Pro Girone B, soltanto due gare terminano a reti bianche. In un campo condizionato dalla forte pioggia e senza grandi emozioni, Prato e Teramo non vanno oltre lo 0-0. Stesso risultato per l'incontro tutto cuoio pistoiese. L'Aquila invece cade a Carrara contro la Carrarese. 1-2 il risultato finale. San Domenico illude gli abruzzesi con questo gol al sedicesimo. Poi Gerardi di testa al 26esimo e Caissa al 42esimo ribaltano il risultato e regalano i tre punti ai gialloblu. Al Ponte d'Era basta Scappini al 73esimo per battere i padroni di casa dell'Arezzo. 0-1 il punteggio finale. Un punto a testa per Lucchese e Sant'Arcangelo. Passano in vantaggio i locali con Pozzebonna al sedicesimo su calcio di punizione. La rete del pari arriva grazie ai lari al 79esimo con un preciso diagonale. Pioggia di gol nel match luparoma-spal. La capolista del girone B cala la manita in trasferta e stende 5-1 i romani. In apertura di secondo tempo Finotto con un'incornata porta avanti i suoi. Cinque minuti più tardi però Daffara ristabilisce la parità su un'azione nata da calcio d'angolo. La spal poi dilaga. Tra il 53esimo e il 57esimo Cellini fa doppietta. Poi al 74esimo realizza anche la sua personale tripletta. Al 93esimo arriva la marcatura di Zigoni. Finisce 4-2 maceratese Roburz-Iena. Anche in questo incontro tanti gol e tripletta per un giocatore. Foglia segna all'undicesimo e raddoppia al diciannovesimo. Colombi ruba palla ad un avversario, parte solitario in contropiede e fa trissa al 27esimo. La Roburz-Punizione tenta di riaprire la gara con Minotti al 54esimo. Ma è ancora Foglia al minuto 64 a spegnere le speranze degli ospiti. Mastronunzio infine all'86esimo mette a segno l'inutile gol per il 4-2 finale. Il Rimini blocca la vicecapolista Pisa sull'1-1. Nerazzurri in vantaggio con il rigore di Euseppi a metà primo tempo. Il pari di casa è firmato da Albertini all'81esimo. E chiudiamo con Savon Ancona 1-2. I Dorici chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a Cognigni che realizza così al 22esimo. Nella ripresa, al 26esimo, Dell'Agnello pareggia per i suoi, ma la gioia dura pochissimo perché due minuti più tardi, ancora Cognigni, mette la palla in fondo al sacco. E i giudici della Corte federale d'appello a sezioni unite nell'ambito del cosiddetto filone di Ertisoccher del calcio scommesse hanno accolto uno solo dei 28 ricorsi presentati contro la sentenza di primo grado. Ne ha respinti 13 e ne ha accolti parzialmente 14. Tra questi c'è quello dell'Aquila che si vede restituire 7 punti dei 13 inflitti in classifica e 100 mila euro dell'ammenda che dagli originari 150 mila adesso passa a 50 mila euro. Per quanto riguarda le altre squadre inserite nel girone B di Lega Pro, il Sant'Arcangelo ha avuti confermati 6 punti di penalizzazione ma dimezzata l'ammenda da 70 mila a 35 mila euro e il Savona ha visto respinto il ricorso che tendeva all'azzeramento dei due punti di penalizzazione. Tra i tesserati confermata la squalifica a 5 anni e 100 mila euro di multa per l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola. Quello che si è appena chiuso è stato un weekend nero per le formazioni abruzzesi. Parliamo di Serie D, tutte e 5 le rappresentanti di Casa Nostra infatti hanno perso. Vediamo risultati e classifica. Amiternina, Olimpia Agnonese 2 a 3, Fano, San Nicolo 3 a 0, Folgore Veregra, Re Canatese 2 a 3, Giulianova, San Benedettese 0 a 1, Isernia, Iesina 0 a 1, Matelica, Chieti 3 a 0, Monticelli, Fermana 0 a 3, Vispesaro, Avezzano 4 a 2, Campobasto, Castelfidardo 0 a 0. Questa è la classifica. San Benedettese 65 punti, Matelica 54, Fano 50, Campobasso 44, Re Canatese 40, San Nicolo e Iesina 39, Fermana 37, Chieti e Vispesaro 34, Avezzano 32, Monticelli 31, Isernia 30, Olimpia Agnonese, Castelfidardo e Folgore Veregra 29, Amiternina 24, chiude il Giulianova con 22 punti. E con il prossimo servizio vediamo come sono andate le gare delle abruzzesi. La decima di ritorno che si è disputata ieri pomeriggio nel Giron F di Serie D ha offerto spettacolo ed emozioni. Su un piano puramente statistico ci sono state 8 vittorie, di cui 3 in casa e 5 fuori e un solo pareggio con ben 27 reti realizzate, alla media di 3 reti a partita. Giornata nera per le formazioni abruzzesi. Tutte e 5 le rappresentanti di casa nostra sono infatti uscite sconfitte nei rispettivi impegni. Nelle zone alte il San Nicolò ha perso 3 a 0 sul campo del Fano. Al Mancini hanno deciso le reti di Sivilla, Gucci e Ambrosini. Per effetto di questo KO i biancazzurri di Epifani sono scivolati al sesto posto in classifica e in pratica adesso si ritrovano per la prima volta dall'inizio della stagione fuori dalla zona playoff. I marchigiani invece hanno consolidato la terza posizione, riscattando nel migliore dei modi la pesante cinquina subita nella gara di andata. Tra le terramane è finita il tappeto anche il Giulianova. I giallorossi sono caduti con onore al cospetto della capolista sanbenedettese che ha espugnato il Fadini di misura 0-1 grazie al gol segnato dopo appena due minuti di gioco da Titone. Gli uomini di Palladini hanno raccolto così il loro diciannovesimo risultato utile consecutivo, mantenendo i più undici sulla più immediata inseguitrice. La squadra di Gelsi invece è rimasta all'ultimo posto, ma è scesa a meno 7 dalla terz'ultima, l'Agnonese. In chiave salvezza quindi si mette davvero male per i giugliesi, che adesso hanno bisogno di un vero e proprio miracolo per risalire la china. A proposito dell'Agnonese, i molisani nell'ultimo turno hanno battuto a domicilio la Miternina, 2-3 con gol di Terriac e Torbidone per gli Aquilani, Marolda e doppietta di Santoro per gli ospiti. In conseguenza di questo tonfo, l'undici allenato da mister Angelone è finito all'ina penultima posizione a meno 5 dal resto del gruppo e adesso vedre ad occhi aperti lo spettro della retrocessione diretta in eccellenza. Piangono poi tutte le altre, il Chieti ha perso 3-0 a Matelica, tripletta di vittorio Esposito, sempre più ispirato, il fantasista ex Pescara ha addirittura segnato un gol direttamente da calcio d'angolo. Protesta contro l'arbitro invece è la squadra nero-verde, che ha chiuso il match in 9 per le espulsioni di Toni e del Grosso. Male, infine, anche l'Avezzano, finito al tappeto 4-2 a Pesaro. L'unica consolazione è che i bianco-verdi, pur perdendo, sono riusciti a non scivolare in piena zona play-out. Adesso il campionato si ferma per una settimana per permettere alla selezione di categoria di partecipare al torneo di Viareggio. Il campionato di Serie D tornerà il prossimo 20 marzo con i match del turno prepasquale. In eccellenza abruzzese si è registrato l'allungo della vastese, la capolista espugna il campo di Morrodoro, porta a 7 punti di vantaggio sul paterno e adesso sogna ad occhi aperti la promozione in categoria superiore. In basso rallenta ancora il Montorio, colpo salvezza invece per la torrese che vede la salvezza. Vediamo comunque risultati e classifica anche del campionato di eccellenza. Alba Adriatica Acque e Sapone 1 a 1, Celano Capistrello 1 a 0, Francavilla Paterno 2 a 1, Miglianico Cupello 2 a 0, Morrodoro Vastese 2 a 3, Renato Curi e Angolana Pineto 0 a 0, San Buceto Martinsicuro 0 a 1, San Salvo Torrese 1 a 2, Val di Sangro, Montorio 88 1 a 1. La classifica vastese 64 punti, Paterno 57, Pineto e Renato Curi e Angolana 49, San Salvo 46, Martinsicuro 44, Miglianico 41, Morrodoro 39, Alba Adriatica 36, Capistrello 35, Cupello 32, Francavilla 31, San Buceto 30, Torrese 27, Acque e Sapone 26, Montorio 88 e Val di Sangro 25 e chiude il Celano con 22 punti. Non perdete questa sera alle 21 il consueto appuntamento del lunedì con la trasmissione Bianco Rossi dedicata in particolar modo al Teramo Calcio e condotta da Andrea De Aloisio. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.